L'ampia pagina dedicata al calcio dilettantistico la apriamo Mario con il nostro collegamento live quotidiano. Eh sì Michele, oggi spazio al Casarano perché abbiamo in collegamento video il direttore sportivo dei Rosso Azzurri, Marcello Pitino, che saluto e ringrazio. Ciao direttore, ben ritrovato, buon pomeriggio. Ben ritrovato a voi, buonasera a tutti. Allora direttore, provo a togliermi subito una curiosità che poi è la stessa anche dei numerosi tifosi del Casarano che ci scrivono quotidianamente, ma il Casarano ha possibilità di partecipare alla prossima Serie C. Sappiamo che la riforma dei campionati molto probabilmente sarà attuata nella stagione 2021-2022, c'è ancora un piccolo spiraglio aperto sul fronte ripescaggio, poi magari in attesa del Consiglio federale dell'8 giugno? Beh adesso si fanno solo supposizioni, si fanno dei ipotetiche possibilità di… ad oggi la certezza è che il giorno 8, rinviato un'altra volta il Consiglio federale, probabilmente ci daranno delle indicazioni su cui uno si potrà muovere. Certezze oggi non ce n'è, quindi qualsiasi cosa si dice oggi non può essere assolutamente valutata, sono delle ipotetiche soluzioni che non hanno riscontro. Quindi Casarano che insomma è in posizione di attesa e alla finestra per cercare poi di capire quali saranno gli eventuali criteri per i ripescaggi in Serie C, ma il Capozza sarebbe eventualmente già pronto per la Serie C o sarebbe da mettere a norma? Ma naturalmente ci sono delle cose ancora da mettere a norma, non so fino a che punto vista la velocità eventualmente dei tempi che ci sono se sarà possibile, questo si verificherà al momento. Però ripeto, in questo momento sono solo supposizioni, sulle supposizioni non si possono fare delle proiezioni. Adesso siamo in una fase di stallo, siamo in attesa, siamo in attesa tutti, perché fino all'altro ieri si dicevano delle cose, ieri altre, oggi altre ancora. Poi a decidere sarà solo il Consiglio federale, che ripeto, se è stato rinviato un'altra volta è perché vuol dire che ci sono delle situazioni ancora da definire e da chiarire. Quindi a questo punto si preferisce attendere tranquilli e poi si valuterà il momento in cui il Consiglio deciderà criteri, modalità, tutto ciò che ci vuole per eventualmente partecipare ai vari campionati di appartenenza. Non vi riguardo naturalmente, direttore, la parte bassa della classifica, però come ben sai ha fatto molto discutere la proposta del Consiglio della Lega Nazionale di Lettanti di far retrocedere direttamente le ultime quattro. Che ne pensi di questa faccenda che ha scaturito davvero tantissime polemiche? Io credo che l'LND si sia attenuta a quelle che sono le disposizioni date sia dalla federazione che dalla UEFA. Poi è il Consiglio federale che deciderà a tutto. In ogni caso, se non sbaglio, l'LND era quella che probabilmente pressava di più per le riforme, quindi probabilmente non sarebbe retrocesso nessuno. Ripeto, sono solo delle supposizioni e delle ipotesi. Credo che l'LND non faccia piacere neanche a loro questa soluzione di retrocedere così squadre che magari avrebbero avuto la possibilità di salvarsi e allo stesso momento dare delle promozioni a chi probabilmente ancora doveva faticare. Però la situazione era questa, si doveva cristallizzare la classifica e si devono prendere delle decisioni. E in ogni caso sono proposte che l'LND fa che dovranno essere ratificate dal Consiglio federale. Sarà un lunedì tra sette giorni, davvero cruciale per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro del calcio italiano. A proposito di futuro, direttore, possiamo dirlo? Marcello Pitino sarà il direttore sportivo del Casarano anche per la prossima stagione. Dino Bitetto ha delle possibilità di conferma oppure state valutando altre opzioni sul tecnico? Noi in generale ci siamo aggiornati con la società dopo il Consiglio federale, quindi fare delle supposizioni adesso come anche riguardo a questo è ancora presto. Non abbiamo assolutamente valutato nessuna situazione tecnica ad oggi, avendo la precedenza tutto ciò che eventualmente ci sarà dal punto di vista del campionato da disputare. Quindi nessuno si fa delle illusioni, però ad oggi non è stata fatta nessuna valutazione. Ci sentiamo con il Presidente, con la società, perché i rapporti sono ottimi, però ci dobbiamo sedere per valutare ciò che si dovrà fare appena ci saranno date le indicazioni giuste da fare. E noi naturalmente direttore saremo qui per aggiornare gli appassionati su tutte le vicende relative al Casarano in generale, di tutte le squadre pugliesi. Per il momento grazie a Marcello Pitino, direttore sportivo del Casarano. A presto direttore, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi.